Quando parliamo di scarpe in genere parliamo di scarpe o da ginnastica o per esempio i mocassini oppure per le donne i d'acchi a spillo, i decoltè e quant'altro. Ma ci sono anche le scarpe da ginnastica che spesso e volentieri vengono usate da persone giovani come me di 18, 20, 25, 24, 35 anni di età e ad oggi vengono molto usate, vengono molto sfruttate, insomma vengono considerate come un oggetto, come una merce utile nonché fondamentale per darci la possibilità di camminare ma anche di svolgere attività fisiche come per esempio una corsa, quindi footing per svolgere per esempio una passeggiata anche in maniera più frequentina, più veloce ma anche passeggiate più lievi. E pensate che la Farrer Williams ha deciso di lanciare le cosiddette Adidas Solaru. Che cosa sono questi Adidas Solaru? Non sono altro che delle scarpe a elevatissime prestazioni e un tipo di abbigliamento che viene progettato per essere sfruttato, per essere impiegato, per essere messo nella condizione di essere, diciamo così, sfruttato in bed nuovamente proprio per la corsa. E la corsa sappiamo tutti che è uno sport a tutti gli effetti, che produce effetti benefici, infatti dicono gli scienziati, le persone che si occupano di sport e quant'altro, proprio che la corsa è indicata perché effettivamente correre fa molto bene. Insomma, voglio congratularmi pubblicamente con la Farrer Williams che va a lanciare le cosiddette Adidas Solaru, queste scarpe ad eccellenti prestazioni, unite ad un abbigliamento che viene proprio impiegato, che viene proprio idealizzato, che viene proprio, diciamo così, messo in atto per la corsa, per svolgere quindi un'attività fisica che può essere considerata come stancante, sfiancante, ma è molto molto utile. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, un saluto, al prossimo video.